Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 12. Apriamo ancora con le ricerche dei dispersi a Palermo, ma intanto a quanto pare non ci sarebbero corpi nel sottopasso di via Leonardo da Vinci, dove la bomba d'acqua di ieri ha intrappolato decine di automobili e macchine, riferisce a Lanza il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, sono state tutte rimosse tranne una. Un'ispezione esterna però avrebbe escluso la presenza di cadaveri a bordo. I vigili del fuoco, dice Cocina, che ha partecipato ad una riunione in prefettura per il coordinamento dei soccorsi, hanno compiuto un grande lavoro per il ripristino della normalità. C'è ancora nel punto più basso meno di un metro d'acqua, il tratto è stato accuratamente ispezionato e non ci sono tracce di persone o di cadaveri che eventualmente galleggerebbero. I lavori proseguono, ma siamo ottimisti sull'assenza di vittime. Intanto la Procura di Palermo sta valutando l'ipotesi di una apertura di indagine, decine di auto travolte dall'acqua, rimaste intrappolate con la circonvallazione che è rimasta allagata, strade trasformate in fiumi in piena, persone costrette a mettersi in salvo abbandonando le macchine sospinte via dalla pioggia. L'indagine dovrebbe accertare eventuali responsabilità nell'assenza di misure necessarie a prevenire e fronteggiare l'emergenza meteo. All'inizio dell'anno, ad oggi, lungo la penisola si sono verificati 66 nubi fragi con precipitazioni violente e bombe d'acqua, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi. A rilevarlo è col diretti con un'elaborazione sui dati del European Silver Weather Database, in riferimento all'alluvione eccezionale che ha colpito Palermo. L'organizzazione agricola sottolinea che siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense di rapido passaggio dal sole al maltempo, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro all'anno. Col diretti conclude che è un fenomeno aggravato dal consumo di suolo con l'abbandono delle campagne e la cementificazione che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire il 28% delle campagne. Non si occupa oggi nello specifico di questo argomento, ma sicuramente gli argomenti relativi all'ambiente fanno parte dell'attività di Lega Ambiente. Dovremmo essere in grado di collegarci con Luciana e Delfonso presso la sede di Lega Ambiente di Udine per parlare dell'iniziativa della consegna delle cosiddette bandiere. Andiamo subito da Luciana per farci illustrare il programma di questa giornata, di questa iniziativa e per intervistare anche il presidente di Lega Ambiente. Luciana a te la linea. Sì, buongiorno hai detto bene, ci troviamo proprio nella sede Udinese di Lega Ambiente per parlare della Carovana delle Alpi, un'iniziativa che vede proprio annualmente la segnazione di bandiere verdi e nere. Ci facciamo spiegare qual è la differenza dal presidente della Carnia? Marco, qual è la differenza? Le bandiere verdi sono gli esempi da seguire, le cose positive che vengono fatte. Le bandiere nere sono i progetti, gli interventi che invece sono da condannare decisamente. Per quest'anno a chi è stata assegnata la bandiera verde? Allora, facciamo una piccola premessa. La pandemia può essere una grossa occasione per il turismo in montagna, un'opportunità. Si punta molto sugli aspetti naturalistici. Allora, noi abbiamo trovato nella distribuzione delle bandiere verdi e di quelle delle bandiere nere una contraddizione tra chi cerca effettivamente di rendere più bello e più grelevole il suo territorio, mi riferisco ad alcune bandiere verdi in particolare, e chi invece lo sta distruggendo, di modo che i turisti allettati da certi spot pubblicitari, rischiano di trovare tutto il contrario di quello che pensavano di trovare. Quindi le bandiere verdi sono state date all'amministrazione comunale, due comuni di Pinsano al Tagliamento e di Tramonte di Sotto, per interventi di cura e manutenzione del territorio e anche di valorizzazione in chiave culturale delle loro località. Alla rete di imprese Friuldane, che si occupa della valorizzazione in maniera ecologicamente sostenibile dell'Albete Bianco e al Consorzio delle Valide delle Dolomiti Friulane, che è la gruppa piccoli produttori e allevatori della zona montana del Porzenonese. Ahimè, molto più pesanti sono invece per il loro impatto le bandiere nere. Le abbiamo date alla Direzione Regionale delle Foreste per progetti di piste forestali che sono ingiustificate, costose e rovinano anche quello che è la nostra ambiente naturale. Al servizio idraulico della Regione, per interventi cosiddetti di sicurezza e protezione civile post-vaia, che hanno completamente rivelato i nostri corsi d'acqua, rendendoli per niente più sicuri, ma soprattutto hanno fatto perdere le loro caratteristiche naturali di biodiversità. Le ultime due bandiere nere le abbiamo date all'amministrazione comunale al Comune di Ponteba, perché ha sostenuto un progetto di derivazione idroelettrica del Fella, che è uno dei fiumi che dovrebbe essere invece tenuto in maggiore considerazione per la bellezza delle sue acque, e alla parrocchia di Zulio e alla soprintendenza, quindi al Ministero dei Beni Culturali, per l'opera di devastazione che è stata fatta sulla pieve di Zulio. Mi riferisco alla verniciatura di una scalinata di pietra e alla realizzazione di una via Crucis, che è completamente stonata rispetto alle caratteristiche di questo bellissimo sito medievale. Ecco, tra le bandiere nere viene in qualche modo coinvolto anche il tagliamento. Si è parlato molto del tagliamento, del suo riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO. Potrebbe giovare qual è secondo lei il modo migliore per valorizzarlo e tutelarlo? Di tutto il bacino, un bacino montano del tagliamento in particolare. Forse anche la strada del patrimonio UNESCO è una cosa utile che va per cosa. L'importante è che entri nella cultura dei funzionari regionali soprattutto, oltre che dei nostri amministratori politici, il valore che ha questo fiume. Noi abbiamo, nelle immagini che abbiamo messo a corredo di queste bandiere nere, messo una fotografia di un flash mob che è stato fatto proprio alle terme di Arta, dove il fiume è stato completamente livellato, però è stata mantenuta una diga artificiale che è stata realizzata nel mezzo del fiume, quindi non ha nessuno scopo, anzi rischia di creare danni in caso di alluvione, ma che ha lo scopo di portare tutta l'acqua del boot al servizio di un privato, di una centrale di elettrica, togliendo alla collettività, oltre che ai pesci, l'acqua in cui vivere. Allora ringraziamo Marco Lepre, Presidente del Gambiente e Carnia, l'invito è quello di tutelare la montagna a patrimonio naturalistico, ma anche grande risorsa turistica. Grazie Luciana. Andiamo avanti con la politica italiana, fresco di approvazione, con fiducia alla Camera, con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti. Il DL rilancio è pronto per il via libera definitivo del Senato, che arriverà la settimana prossima, ma intanto sono iniziate le varie discussioni. Il provvedimento ha messo in campo interventi da 55 miliardi di euro per limitare l'impatto economico su imprese, partite IVA, dipendenti, famiglie. Terzo settore, fra le misure originarie e i contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell'IRAP, il reddito di emergenza, l'inalzamento da 600 euro a 1.200 euro del bonus babysitter, il passaggio alla Camera ha portato a una serie di novità, come l'allargamento alle seconde case, il super bonus al 110%, gli incentivi per l'acquisto di auto euro 6, l'aumento dei fondi destinati alle scuole paritarie, lo slittamento di un mese dei congedi per i genitori, l'anticipo della cassa integrazione guadagni prevista per l'autunno, non c'è da aspettarsi altre modifiche, il testo arriverà blindato a Palazzo Madama nel giorno del giro di boa del DL rilancio. Lui ha dato il via libera allo schema da 6,2 miliardi di euro per sostenere le piccole imprese e gli autonomi con le sonvenzioni dirette. Andiamo un attimo sul computer perché arriva una notizia che riguarda la protezione del nostro paese da eventuali contagi importati dall'estero e arriva la notizia che vedete lanza pubblica sotto la testata come una notizia flash di ultimora, il ministro Speranza ha annunciato lo stop anche dalla Serbia, dal Montenegro e dal Kosovo, quindi i nostri confini, i nostri aeroporti saranno chiusi anche a queste tre nazioni, quindi chi arriva da Serbia, Montenegro e Kosovo non potrà arrivare in Italia in base a quello che è stato già stabilito per altri paesi, visto che da questi paesi a quanto pare possono arrivare dei contagi nel nostro paese, l'Italia si cautela in questo modo. Invece per quanto riguarda la ripresa dell'anno scolastico, il commissario per l'emergenza coronavirus, Arcuri, annuncia che ci saranno test sierologici a disposizione presto e per tante persone, per chi dovrà occuparsi di gestire l'anno scolastico che inizierà a settembre, ma ancora con tante incognite davanti. Sentiamo le dichiarazioni di Arcuri. Insieme alla ministra Azzolina noi metteremo a disposizione due milioni di test sierologici che il personale docente e non docente delle scuole italiane dovranno fare prima della riapertura delle scuole che per alcune è prevista per il primo settembre e per altre è prevista per il 15 settembre. È fondamentale che i nostri figli possano tornare a scuola in sicurezza. È molto importante che possano tornare a scuola, se posso è ancora più importante e se vuole è giusto che lo facciano in sicurezza. Noi abbiamo bandito una gara pubblica europea accelerata all'inizio di questa settimana. Confidiamo che per il 10 agosto, come si fa in una emergenza e come si fa in un paese normale, i test sierologici siano disponibili. Continua il braccio di ferro tra l'Unione Europea e la Apple. Il colosso di Cupertino viene accusato di abuso di posizione dominante per quanto riguarda vicende che si riferiscono all'antitrust, ma anche di evasione fiscale in poche parole perché non vesterebbe le tasse nei paesi in cui opera. La Apple però ha vinto il primo round di un procedimento presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Vediamo il servizio. La Commissione Europea perde in tribunale la battaglia sul fisco contro la Apple e l'Irlanda. Per i giudici dell'Unione Europea, quello sconto sulle tasse che ha fatto risparmiare al colosso di Cupertino ben 13 miliardi di euro non è un aiuto di Stato e quindi non dovrà mai essere restituito. È un duro colpo per l'antitrust dell'Unione Europea e per la sua guerra all'evasione delle multinazionali che sfruttano quei regimi fiscali vantaggiosi messi in piedi da alcuni stati europei come Irlanda, Olanda, Lussemburgo e Belgio per attirare investimenti. E non è il primo, visto che già l'anno scorso la Corte dell'Unione Europea aveva annullato una decisione simile su Starbucks in Olanda. Per questo, in attesa di capire se fare appello per proseguire la battaglia legale, la Commissione cambia strategia e lancia un nuovo tipo di offensiva anti-evasione. Utilizzerà un articolo del trattato mai utilizzato finora per individuare e perseguire i regimi fiscali anticoncorrenziali. La decisione del Tribunale è stata una sorpresa per Bruxelles, che si è vista smontare un'indagine durata diversi anni e che nel 2016 aveva stabilito come grazie a due tax ruling, cioè accordi fiscali ad hoc, la Apple ha evaso sistematicamente tasse. Andiamo di nuovo sul computer perché c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti che conferma le preoccupazioni per l'espandersi dell'epidemia da Covid-19 nel paese nordamericano dove si è toccato un nuovo record, 67.632 casi in 24 ore. È un nuovo record e sarà superata intanto la soia dei 137.000 morti. Quindi negli Stati Uniti il virus non accenna ad arretrare. Invece parliamo adesso di immigrazione. Da tempo denuncio l'incapacità di questo governo a fronteggiare le emergenze migranti sul confine balcanico e la sottovalutazione della maggioranza che oltre ai porti mantiene aperte anche le linee di frontiera. Su Trieste abbiamo una nuova lampedusa, lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Luca Ciriani. Non è così. Ogni settimana centinaia di clandestini scavalcano il confine per entrare illegalmente in Italia. A questo si aggiunge anche il rischio legato al Covid-19 su cui al Ministero dell'Interno era stata chiesta attenzione e un monitoraggio più scrupoloso. Ci auguriamo che i nostri appelli non cadano nel vuoto, ha aggiunto Ciriani, perché ormai è necessario che il governo consideri la rotta balcanica al pari dell'emergenza sbarchi sulle nostre coste del Mediterraneo. E su questo tema si è espresso anche il Vice Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, intercettato da Luciana e Delfonso a margine del saluto istituzionale ai militari della Brigata Giulia in partenza per l'Afghanistan. Un servizio su questo evento andrà in onda più tardi, sempre nel corso di questo telegiornale, ma intanto concentriamoci su Covid-19, emergenza e migrazione rotta balcanica, con l'intervista realizzata da Luciana e Delfonso con Riccardo Riccardi. Covid, rotta balcanica, qual è la situazione in Regione e la preoccupa? Insomma, noi responsabilmente dobbiamo essere preoccupati di tutto, senza fare allarmismi, ma è evidente che la rotta balcanica è un tema. Gli ultimi contagi fortunatamente limitati hanno una giustificazione nei flussi di transito che ci sono stati, abbiamo registrato più di qualche contagio derivante da persone che erano state in quei paesi, quindi bisogna tenere alta l'attenzione a questo, bisogna continuare nel lavoro della sorveglianza sanitaria auspicando che questa sorveglianza venga fatta anche in quei paesi dei quali conosciamo poco e che quindi siamo impegnati a fronteggiare con i nostri dipartimenti di prevenzione. La Regione continuerà a chiedere maggiori controlli lungo i confini? Evidente, il confine è un problema, non è un problema soltanto per l'immigrazione clandestina incontrollata, ma anche relativamente alle regole che oggi ci sono. L'importante è che ripeto, ci sia una sorveglianza adeguata sanitaria e soprattutto ci sia rispetto delle regole, cioè la comunicazione ai dipartimenti di prevenzione delle persone che arrivano da alcuni paesi e nel caso in cui questi paesi facciano parte di quella categoria di nazioni che devono rispettare l'isolamento. Devo dire che buona parte dei casi che abbiamo registrato hanno visto rispetto di queste regole, alcuni purtroppo no e naturalmente noi continueremo con il tracciamento e la costruzione della filiera di tutti i contatti perché è questa la ricetta giusta e tra l'altro è uno degli ingredienti che ci ha consentito di arrivare alla fine di questa prima parte di questa esperienza così difficile con dei dati fortunatamente positivi. Andiamo adesso a Treviso dove la polizia stradale insieme con il compartimento del Veneto ha denunciato 12 persone di cui due in stato di arresto per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di illecita provenienza, truffa aggravata ed autoriciclaggio. Uno dei due arrestati è il campione di rally Alain Valle che insieme all'altro arrestato si spiega in una nota è ritenuto a capo di un'organizzazione criminale capace di acquisire autorubati o sottratte a società di noleggio, contraffare i documenti per poterli poi trasferire nella Repubblica cieca dove i mezzi apparentemente regolati per le autorità cieche venivano ripuliti con una nuova irregolare immatricolazione straniere e poi di nuovo reimmessi nel mercato italiano. Andiamo adesso alla caserma di Prampero con il servizio di Luciano Ederfonso, l'intervista al comandante, ad un maresciallo della Brigata Iulia in partenza per la missione di pace in Afghanistan. Giulia pronta a ripartire la quinta volta in Afghanistan, in che cosa consiste la missione e quanti uomini saranno impegnati? Buongiorno a tutti, ci tengo a precisare una cosa, che usciamo come Brigata Iulia ma è fondamentale il fatto che usciamo nella nostra configurazione MLF, Multinational Land Force, vuol dire che di fatto usciremo con unità italiane, ungheresi e slovene, le tre nazioni che costituiscono la MLF. Andiamo in Afghanistan, la nostra missione sarà fondamentalmente una missione di addestramento, train, è una missione di addestramento e di pianificazione, organizzazione e pianificazione di tutte le attività che le forze di sicurezza afghane dovranno fare, sostanzialmente li dovremo addestrare. Più o meno siamo, orientativamente con i numeri, siamo circa un contingente di un migliaio di persone, che però, questo migliaio di persone non sono solo italiani, sono sette nazioni rappresentate e quindi di italiani siamo circa un settecento. Quali difficoltà potreste incontrare una volta sul territorio? La missione è abbastanza consolidata, difficoltà particolari probabilmente sono più legate all'emergenza, alla pandemia che anche in Afghanistan è presente, quindi cercheremo di lavorare nel miglior modo possibile addestrando le truppe anche con vari metodi, anche con delle videoconferenze che non necessariamente in presenza, in modo tale che così effettivamente riusciamo a gestire la situazione contingente. Prima volta in Afghanistan, perché e che cosa l'aspetta? Sì, prima volta in Afghanistan, all'interno del comando della Multinational Land Force. Mi aspetta sicuramente un'esperienza nuova, avvincente, da cui mi aspetto comunque di elevarmi dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del mio impiego professionale, anche nel mio futuro. Mi aspetto insomma di crescere professionalmente e di poter poi sfruttare tutto quello che imparerò anche in un futuro sul territorio nazionale. Adesso parliamo di sport, calcio, 33esima giornata, vediamo la grafica con i risultati fin qui maturati, compreso il pareggio di ieri tra Udinese e Lazio a Reti Bianche, unico pareggio a Reti Bianche di questa giornata finora, in attesa di Torino, Genoa e Spalintere che chiuderanno il turno, ma intanto l'Atalanta ha seppellito il Brescia sotto 6 gol, 6-2 il finale nell'anticipo di questa giornata, poi ieri Bologna e Napoli hanno pareggiato 1-1, il Milan ha battuto il Parma in rimonta 3-1, la Sampdoria ha superato il Cagliari per 3-0, mentre la Fiorentina ha vinto a Lecce 3-1, la Roma ha battuto il Verona 2-1, Sassuolo e Juventus hanno chiuso il match sul 3-3, Udinese-Lazio è finita 0-0 per una classifica che vede la Juventus sempre in testa, nonostante questo mezzo passo falso contro il Sassuolo, la Juve resta con 7 punti di vantaggio sull'Atalanta, l'Inter potrebbe portarsi a meno 6 in caso di successo questa sera, per l'Udinese la quota è di 36 punti, il totale dei punti è 36, siamo lì a 3 punti dalla Fiorentina, 4 dal Parma, 5 dal Cagliari, ancora con qualche giornata da giocare, dunque con la possibilità speriamo di poter conquistare quei punti che oltre a servire per la salvezza matematica prima possibile, possano anche autorizzare a piazzarsi al termine di questa travagliata stagione, travagliata per tutti, di ottenere un piazzamento più importante di una semplice salvezza che poi semplice ovviamente non è. Jacopo Romeo si trova al Bruseschi, andiamo subito a collegarci per farci raccontare la seduta e l'allenamento del mattino e se ci sono delle novità in merito a Iaialo, che per quanto riguarda gli acciaccati di ieri è sicuramente quello che preoccupa di più, ma lo stesso Bram Nuiting uscito a scopo precauzionale nella parte finale del match, Jacopo a te. Eh sì, eh sì Francesco, ben trovato, ben trovati anche i nostri telespettatori, come potete vedere alle mie spalle il posto di svolgimento nel sud allenamento, che vede impegnati però soltanto i giocatori che ieri non sono scesi in campo. L'unico di quelli coinvolti a gara in corso che si sta allenando è il De Teravest. Per tutti gli altri che hanno giocato ieri anche a scampoli di partita contro a Lazio, lavoro di scarico in palestra. Quindi c'è una pattuglia diciamo così, rimpinguata da tantissimi ragazzi della formazione primavera. Iaialo nel pomeriggio, nel pomeriggio, tardo pomeriggio avremo indicazioni sulle sue condizioni, distorsione al ginocchio. Gotti aveva parlato nel mediato post-match di sensazioni non positive, però bisogna aspettare gli esiti e gli esami diagnostici. Quindi più avanti, nelle prossime ore, avremo un quadro della situazione. La speranza, ripeto, come ti dicevo già alle 10, è che alla fine si tratti di uno spavento e che le sensazioni negative invece portino a dire che si tratta di una semplice distorsione, come già accaduto anche a Sema contro il Bologna, dopo una settimana a Sema giocò. Quindi vediamo, tutti si augurano che sia così anche perché al centrocampo la coperta è corta. Qualora così fosse, Iaialo sicuramente non è a disposizione per la gara col Napoli. Questo possiamo già dirlo. A Napoli, in Mato Iaialo, non ci sarà. Troppi due giorni per smaltire anche, come tutti ci auguriamo sia, una semplice distorsione al ginocchio. Qualora non fosse distorsione al ginocchio, sicuramente il peggio sarebbe scongiurato. C'è la lottura e il legamento crociato che quelli che hanno temuto vedendo la torsione al ginocchio. Quella non sembra esserci anche perché non c'è quel tipo di dolore, quel tipo di situazione come era stato ad esempio per Mandragora. Vediamo, si attende. Su Brannoyting, tutto a posto. C'era anche un po' di apprezzazione per Samir che dalla tv si è visto aver avuto questa distorsione, ma anche lì non dovrebbero esserci problemi seri e strutturali a pregiudicare i prossimi appuntamenti. Detto questo, Francesco, è chiaro che adesso ci sarà una partita da affrontare contro il Napoli per suggellare la salvezza, come dicevi tu, senza Iaialo e anche senza Stefano Cacca. E attenzione che a centrocampo, dove l'Udinese è un po' tirata, soprattutto dopo il K.O. e l'assenza, speriamo, circoscretta solo al match contro il Napoli di Iaialo, c'è anche Fofanà sul quale pende. Un cartellino giallo, una diffida, anzi. Questo è un po' il quadro in casa Udinese. Intanto tristisco la linea, poi nel pomeriggio gli aggiornamenti su Iaialo. Grazie Jacopo. Allora andiamo a rivedere quello che è successo ieri alla Dacia Arena nel pareggio a reti bianche, ma non privo di emozioni. Perché sia nel primo tempo che nel secondo tempo le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto e hanno avuto le loro occasioni per passare in vantaggio. Sentiamo Alessandro Surza. Finisce 0-0 alla Dacia Arena tra Udinese e Lazio. Le zebrette meritavano probabilmente anche qualcosa in più, ma è un punto davvero importantissimo in ottica salvezza. Primo perché è stato conquistato giocando assolutamente alla pari contro una grande squadra che arrivava da tre KO consecutivi e quindi col coltello tra i denti. Secondo perché permette di andare a Napoli con un morale sicuramente più positivo rispetto al post Sampdoria. E terzo perché in attesa del Genoa, che giocherà stasera, il Lecce ieri ha perso in casa contro la Fiorentina e quindi 1-0-0 che va bene perché c'è il più 7 sui giallorossi. La prima frazione è equilibrata, buoni ritmi ma nessuna vera occasione da gol. Al ventiduesimo ci prova De Paul, ma l'argentino calcia di poco alto. Poi si fa vedere la Lazio, o meglio si fa vedere Musso che si supera mandando in angolo la bordata di Lazzari sugli sviluppi di un corner. Alla mezz'ora altra fiammata bianconera, manovra avvolgente dei padroni di casa che arrivano al cross dalla sinistra con Sema. Becao è ben piazzato sul secondo palo e schiaccia col piattone. Stracoscia si rifugia in angolo. Nel finale problemi per Jaiello che lascia il posto a Wallace e così il primo tempo scivola via e si conclude sullo 0-0. Nella ripresa cresce l'Udinese che inizia a collezionare palle gol. Al 49esimo Lasagna si ritrova il pallone tra i piedi dopo un erroraccio della Lazio in disimpegno e spara, ma Luis Felipe è fenomenale nell'immolarsi col corpo salvando i suoi. Poco dopo altra palla gol ancora sui piedi di KL15 che però stavolta ha le polveri bagnate. L'attaccante sfrutta un'altra desattenzione bianco celeste e si invola verso la porta ma tu per tu con Stracoscia gli calcia addosso. Poteva forse servire Okaka. Minuto 60 ancora Udinese bordata di De Paul ma l'estremo difensore laziare si salva. Nel finale la banda Gotti cala un po' e concede campo alla Lazio ma i capitolini non riescono mai ad impensierire realmente Musso e allora l'ultima chance è ancora di marca bianconera. Fofanà appoggia per De Paul che lascia partire un missile che scheggia il palo. È il minuto 96 e il match si conclude qui. I bianconeri ottengono un punto che muove la classifica e finalmente mantengono la rete inviolata in casa. Ah sì in assoluto è la terza gara di fila in cui Musso non subisce gol con Becao, De Mailloux e Noiting in difesa. Coincidenze? E sentiamo l'intervista realizzata ieri sera da Jacopo Romeo con il mister Luca Gotti al termine del match. Mister partirei dall'atteggiamento perché la partita di stasera ha confermato che con la Samp come fisiologico anche in questo periodo fitto di impegni si è trattato di un incidente di percorso. Invece oggi la squadra ha risposto e come presente giocando una partita tosta, importante, di concentrazione, di proposta contro una squadra forte. Non è facile neanche avere il termometro preventivamente prima della partita è complicato giocando ogni tre giorni avere il termometro di quello che sarà non solo la partita però proprio l'energia che hai a disposizione e non so bene se dire che possa essere più importante l'energia fisica o l'energia mentale perché ricrearsi comunque i presupposti per tirar fuori il 100% ogni due tre giorni non è così automatico. Dopo la vittoria di Ferrara che per noi comunque è stata importante probabilmente abbiamo pagato qualche cosa, il campo ha detto che abbiamo pagato qualche cosa dal punto di vista dell'atteggiamento e dal punto di vista dell'energia. Stasera a distanza di soli due giorni abbiamo trovato una squadra che ha provato a fare tutto quello che doveva. Ecco la risposta di Luca Gotti, la prima risposta all'intervista di Jacopo Romeo, la spiegazione di quello che è avvenuto tra la Sampdoria e la partita di ieri sera passando tra Ferrara, la partita di ieri sera passando per la gara contro la Sampdoria tutto normale in questo momento in cui con il calendario così restretto può succedere. Di tutto andiamo adesso sul meteo prima di chiudere, diamo un'occhiata alla situazione in questo momento, situazione generale che vede una depressione che si sposta dalla Germania verso i Balcani rendendo incerto e instabile il tempo sulla nostra regione fino a sabato. La situazione di oggi dopo una mattinata con cielo in genere poco nuvoloso e localmente variabile, da questo pomeriggio cielo nuvoloso sui monti dove saranno probabili piogge sparse e qualche temporale cielo variabile in pianura con possibilità di qualche isolato temporale per la giornata invece di domani. Di notte e primo mattino cielo coperto con piogge sparse mentre in giornata si avranno delle schiarite anche ampie dal pomeriggio possibili rovesci o isolati temporali più probabili tra le prealpi e la pianura e verso ovest. Eccola qui anche la cartina con le indicazioni per la giornata di domani dunque tempo instabile fino a sabato a causa di questa depressione che si sta spostando dalla Germania verso i Balcani. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito alle 15 e 30 edizione sportiva in collaborazione con Sport Italia, il C Live News e poi alle 16 di nuovo il TG News 24, alle 18 il pomeriggio calcio, alle 19 ancora le notizie con il TG News 24, in prima serata alle 21 vi approfondiremo i temi di Udinese Lazio in studio e stadio commenti per chiudere poi la serata della nostra informazione in diretta con il TG delle 22 e 30. Auguro a tutti buon pranzo e appuntamento dunque alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci. Grazie a tutti.